Erano circa 50 gli amanti della mitica Vespa ad essersi dati appuntamento a Cogoleto questa mattina per la seconda edizione del raduno natalizio organizzato dalla Croce Rossa. Muniti di barba, abito rosso, decorazioni e campanellini, i babbo natale di Cogoleto hanno portato una ventata di allegria nel centro storico e nelle frazioni. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!